eccoci qua bene ragazzi buongiorno a tutti buon martedì ben ritrovati sul canale e fatemi dire subito una cosa iscrivetevi al canale iscrivete attivate la campanella e magari se vi è piaciuto il video alla fine mi mettete anche un bel like perché no dunque dunque allora non è solo il milan che rischia di perdere i giocatori a zero leggo presidente della fiorentina commisso ammetto vlaovic non rinnoverà allora non è soltanto il milan che lo prende in quel posto no ragazzi oramai è diventato il giochino di tutti oramai tutti quanti hanno capito come funziona il porco ha aperto la strada e tutti quanti vanno dietro al capobranco ragazzi oramai funziona così bisogna bisogna studiare una contromossa perché si va da quel lato là si va da quel lato lì le società oramai non sono più proprietari dei giocatori lo sono per il contratto che li fanno ma non sono proprietari del giocatore sono proprietari delle prestazioni del giocatore perché loro li fanno un contratto che è per 4 5 anni quello che è e per quei 4 anni loro sono proprietari delle loro prestazioni stop basta e finisce finisce lì perché qua tutti quanti vanno in scadenza oramai non gli interessa più niente non non si vogliono affezionare un progetto una cosa non c'è non c'è niente di tutto ciò c'è soltanto questo la pila e dove c'è la pila loro vanno stop basta perciò detto questo così è perché l'auvice non rinnova gli scade nel 2023 non si pone neanche il problema che una società lo può che ne so mettere in panchina o mettere in tribuna non facendolo giocare ma che niente frega tanto lui nel 2023 se ne va e c'ha già l'altra società dietro che lo prende Lautaro idem Lautaro sono due anni che mi dicono settimana prossima firma il contratto è già steso già tutto sistemato cifre tutto quanto lui non riesce ad arrivare perché per una situazione o per l'altra non riesce ad arrivare lì ma prima o poi arriva e lo firma si si tra un po' arriva il 2023 li scade anche a lui ancora non l'ha firmato Brozovic tra tre mesi ricordiamo che Brozovic può firmare con chi vuole perché scade nel 2022 idem di bala della Juventus ragazzi di bala nel 2022 va e sono due anni che dicono che deve rinnovare in segno uguale per il Napoli e se vado avanti ne trovo altri tanto hanno capito tutti quanti il giochino e vanno in quella direzione per per poter far sì che che la cosa si sistemi sono i piani alti che devono studiare qualcosa o se no se no bisogna fare così tutte quante le società si iniziano a comportare come si è comportato il Milan negli ultimi due anni ma tutte però non soltanto il Milano due o tre tutte quante tutte quante così nell'arco di due barra tre anni quando poi i contratti arrivano tutti quanti scadenza il mercato si farà con le scadenze tutti prendono quello che scade per rinforzare nel reparto dove è andato via quello che a quello che è scaduto il contratto è una catena così non si tirano più fuori i soldi si prendono soltanto le prestazioni e si pagano solo gli stipendi non si pagano più i cartellini non si tirano più fuori i soldi perché tanto tirar fuori società società tirano fuori i soldi ma poi vanno tutti quanti i procuratori perché poi dopo mandano io lo compro a un tot poi dopo tra tre anni non lo faccio rinnovare e lo regalo un'altra società che li paga solo stipendio ma mi paga la commissione a me ecco perché si si va da quel lato lì allora facciamo così portiamoli tutti quanti a scadenza io da ignorante dico la prima cosa che mi viene portiamoli tutti quanti a scadenza così il mercato lo si fa come ho detto prima con i scambi di scadenze a me mi scade questo c'è quello che ti scade a te ma lo faccio venire qua quello può andare dall'altra così i procuratori lo prendono in quel posto non prendono più una commissione i giocatori idem perché poi dopo se non ci sei tu che vieni c'è un altro che in scadenza viene perciò non puoi neanche più di tanto chiedermi chissà quanto chiedi devi chiedere il giusto quello che tu vale quello che hai dimostrato gli anni prima nella società che hai giocato ok perché c'ha la noglu c'ha la noglu è andata a prendere nell'inter 6 milioni ma secondo voi c'ha la noglu nel milan i quattro anni che ha giocato al milan ha dimostrato di valere 6 milioni no e allora non funziona così ragazzi e allora non funziona così perciò inutile continuare a incensare anche marotta che grande operazione prenetto io non ce l'ho con marotta è già la seconda volta che lo nomino nei miei video non ce l'ho assolutissimamente con lui è vero che è un grande dirigente ha fatto grandi cose però ha fatto anche grandi secondo me operazioni sbagliate e c'è la noglu è una di quelle ma tutti tutti anche galliani è stato un grande dirigente ma anche lui ha comprato dei giocatori che non si potevano vedere perciò e poi alla fine il risultato del campo della squadra che determina il valore dell'operazione o meno per quanto mi riguarda se vinci sei bravo se perdi però ad oggi secondo voi c'è la noglu vale i soldi che prende cioè nei quattro anni nel milano ha dimostrato di valere quei soldi ha fatto sei mesi buoni e tre anni e mezzo da 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 pestarlo ogni volta che lo vedevi e non vale perciò quella non è stata una grande operazione diciamolo diciamo perché si dice sempre grande marotta bisogna dargli la medaglia per quello che ha fatto il passato però c'è anche il merito e il maldini massare invece no no ragazzi cerchiamo di fare le cose come stanno facendo maldini massare che stanno lavorando secondo me in maniera ottima su questo lato qua loro vanno avanti per la loro strada e se tutti iniziano a fare così e dopo dopo iniziamo un pochettino a mettere il bastone tra le ruote questi fenomeni che 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 mettono le società con le spalle al muro perché le società poi alla fine su qualsiasi lato lo prendono sempre in quel posto devono comprare il giocatore e devono tirare fuori i soldi devono pagare il giocatore e devono tirare fuori i soldi vai in nazionale il giocatore rischia di infortunarsi torna e loro devono curarlo e devono pure continuare a pagarlo ragazzi basta perché poi si arriva a questo vedi le società arriva a un certo punto perché per cercare sempre di stare basta ragazzi basta dai facciamo equilibriamo un po la situazione loro hanno giocato la loro mossa i procuratori che ha iniziato i porco e tutti quanti a capobranco sono andati a pressa a lui ha fatto la sua mossa è stato furbo e adesso le società devono farla loro e non è che può andare può andare sempre bene a lui scusate mettetevi iniziate a secondo me secondo me io la vedo così poi sono l'ultimo dei dei mohicani perciò non secondo me bisognerebbe iniziare a fare così iniziamo a valutare tutti e tutti le scadenze detto questo iniziamo a valutare tutte le scadenze vlavici scade nel 2023 io se fossi nella dirigenza del milan resisterei un altro annette e mezzo e porta a casa vlavici e te lo godi per quattro cinque anni il contratto che gli farai senza pensare poi io per tutta cioè l'attaccante per i prossimi fai il contratto basta poi lui ti deve giocare per quei quattro anni poi quello che sarà sarà poi troverai qualcun altro io la vedo così secondo me bisogna andare avanti su questa strada qua cercare di non farsi mettersi sotto scalco da procuratori e giocatori e di fare una contromossa a questa situazione perché se non si fa una contromossa la vedo la vedo veramente veramente grigia ragazzi io la penso così se voi siete d'accordo con me un bel like e ci rivediamo al prossimo video ciao ragazzi e buona giornata a tutti e buon martedì